L'occhio, finestra dell'anima, abbraccia la bellezza di tutto il mondo. E' l'occhio che tutte le umani arti consiglia e corregge, che conduce l'uomo in ogni luogo. Hai vinto la tua sfida impossibile, rappresentando l'unione simbolica tra arte e scienza. Io voglio intendere l'universale misura dell'uomo. Studiare e disegnare sono per me l'unico rifugio sicuro. La pittura è scienza, nipote di natura e parente di Dio. Solo tu sei riuscito a rappresentare i sentimenti umani come la figurazione del mistero divino. E il tuo infinito desiderio di conoscenza si fa vivo. Questa è la tua mente, la mente di un genio. La mente di Leonardo da Vinci